Ciao, sono qui per rispondere a molte delle domande che mi state facendo in merito a Visoco. Lo so che molti di voi vorrebbero avere più informazioni, vorrebbero sapere tutto quello che faremo, ma questo non ve lo posso dire perché non lo so neanch'io. Quello che posso fare oggi è condividere quello che mi è stato detto dalle mie guide, almeno parzialmente perché ho scritto mezzo quaderno. Quindi ti posso leggere, oggi ti leggerò le prime informazioni che ho ricevuto il 10 di marzo. Tieni conto che le informazioni per andare a Visoco le ho ricevute a novembre quando eravamo in Italia per fare il ritiro e quindi è passato un po' di tempo, ma in questo lasso di tempo non mi era arrivato nulla. Quindi figurati, il tempo scorreva, però io non sapevo niente. E quindi qui ho il mio quaderno delle canalizzazioni, come vedi tutto bello sgarruppato perché viene con me ovunque e inizierò a leggerti qualcosa. Poi ti darò anche un'informazione verso la fine di qualcosa in merito ai lavori che faremo lì e che mi è arrivato oggi, sempre che io me ne ricordi. Allora, Visoco. Perché mi avete chiesto di andare a Visoco? Per aumentare la connessione tra cielo e terra, il risveglio della consapevolezza, dell'essere che siete, dell'uno e farne esperienza. Lì c'è una diversa e una maggiore purezza energetica, oltre che punti salienti per voi ancora misteriosi. Il cammino verso la verità per togliere i veri dell'obelio con cui la mente e la visione della vita dell'essere umano vengono offuscati. Il termine corretto è svelare. Le persone che parteciperanno saranno capaci di discernere il vero dall'illusione. Faranno un passaggio profondo di consapevolezza, diventeranno indistraibili, impossibili da manipolare, indipendenti, liberi dalle influenze esterne, dal giudizio, immuni dalle illusioni della vita, in altre parole infottibili. Scusa il termine, ma questo è quello che mi è arrivato. Tu stessa sarai pronta per il grande salto, solo dopo il passaggio che potrei fare lì. Quindi anch'io sono molto molto curiosa di quello che accadrà. Pulizia da tutte le scorie e le informazioni tossiche. Questo è quello che aspetta a chiunque verrà lì. Che inquinano la mente, i pensieri, le emozioni, che influenzano le scelte e le azioni, guidate da paure inconsistenti e illusorie. Sarà come mettersi a nudo, tornare all'essenza per recuperare il vero sé, la verità sull'essere umano, su chi siete e sul perché siete qui. Ma non si tratta di trovare un elenco di risposte, ma di farne direttamente esperienza, di integrarla e di essere uno con la verità e con il tutto, attraverso una serie di esperienze facilitate dal luogo, dalle vibrazioni che emana questo luogo e che connettono con l'assenza dell'universo. Spogliarsi di ciò che non serve e limita l'esperienza terrena per aprirsi al vero ed espandersi, essere, vibrare, esistere, facendo esperienza dell'infinito potenziale universale di cui siete parte e che privi delle tossine, permette di manifestare consapevolmente senza fatica, senza più blocchi liberi e ripuliti dai condizionamenti che privavano del potere autentico e naturale. Sarà come rinascere in una nuova versione consapevole, connesse alle parti spirituali, capaci di fare ciò che prima si pensava completamente impossibile. Questa è la vera natura divina. Sarà come spogliarvi, purificarvi ed essere toccati dalla verità che accende il divino dormiente che ricorda, scusate ma non riesco a leggere, che puoi, che puoi fare tutto insomma. Un piccolo grande passo verso il vero sé, verso l'illuminazione e verso il risveglio. Connessione diretta con il tutto, con tutte le cose, con le capacità di creare sincronicità e vivere la magia della vita, come è naturale che sia. Sarete guidati nei vari passaggi perché ciò che serve ad ognuno possa accadere. Sarà l'energia del luogo a guidarvi, il flusso della vita, l'universo e gli esseri spirituali che desiderano che facciate questo passaggio. Tu sarai una guida guidata, quindi praticamente quello che hanno detto è tu sarai lì ma adesso ti dice un po' con niente e più fluirai e più sarai di aiuto. E forte sarà anche il tuo passaggio. E io ho chiesto, ma così non è che creiamo un po' troppe aspettative? Infatti qualcuno che addirittura ha letto le pagine che abbiamo scritto che sono molto stemperate rispetto alle informazioni che mi sono arrivate ma proprio siamo scesi di un 90% rispetto a tutto quello che è arrivato e mi ha detto sì praticamente veniamo lì e diventiamo Dio e io stessa avevo questo dubbio no? Ma non creiamo troppe aspettative? Allora questo è quello che mi hanno risposto. Questo è l'intento. Poi sta ad ognuno farsi guidare oppure bloccare l'energia e i processi che possono avviarsi. Non avrai un programma e questo l'avevamo capito. In seguito ti daremo tutte le tappe e la sequenza e ci saremo anche noi. E mi ha detto meno male perché se non ci siete voi a guidarmi io cosa farò? Ebbene insomma questo è quello che mi è arrivato almeno nella prima parte. E comunque anche le informazioni successive poi me le rileggerò perché vedremo se avrà senso comunicarvelo se sono simili. Adesso non mi ricordo tutto perché già qui io vi ho letto quattro pagine quindi diciamo che c'è un sacco di roba. Ed è bellissimo perché comunque da quando ho iniziato a ricevere informazioni io mi sento veramente molto in pace col fatto di non avere nessun programma perché lo sento proprio che più vado tranquilla nel senso più io stessa mi sentirò ok col fatto di avervi dato anche pochissime informazioni pratiche e più tutto questo sarà naturale lo lasceremo accadere. D'altra parte così sarebbe bene che avvenisse anche la vita mentre noi invece che cosa facciamo? Noi tendiamo con la nostra visione che comunque è limitata perché noi nel momento in cui ci incarniamo abbiamo una visione limitata dell'esistenza e di tutto quello che è la vita stessa il processo di vita attraverso le vite molte persone non percepiscono neanche il mondo sottile e quindi la nostra visione è veramente microscopica rispetto a tutto quello che esiste e con questa microscopicità noi abbiamo l'arroganza di sapere tutto e di sapere cosa è meglio per noi mentre noi non lo possiamo sapere noi lo possiamo solo sentire ascoltandoci ascoltando la vita che ci guida continuamente ed è molto bello perché una cosa che mi arriva adesso e che non era arrivata prima e che comunque attraverso questo processo sarà anche molto più facile poi successivamente farsi guidare dalla vita un'informazione che è giunta questa mattina durante la mia meditazione del mattino è che per alcuni di voi sarà qualcosa di molto utile proprio relativamente alla missione nel senso che l'intento principale da quello che mi è arrivato finora non è proprio quello di arriva e scopri la tua missione di vita io in merito a questo faccio un percorso apposito ma non è quello l'intento ma per alcune persone che saranno lì ci saranno proprio anche dei passi concreti io ho visto proprio le persone scusate sta passando un aereo e anche una moto dei passi concreti che venivano fuori emergevano e aiutavano proprio la persona a sbloccarsi nei passi successivi relativamente alla missione adesso mi vengono in mente alcune persone oltre alla persona a cui era diretto il messaggio di ieri che sono già ad esempio iscritte al percorso per cui arriveranno delle informazioni proprio importanti relativamente all'emissione di vita e adesso non mi bombardate voi che siete già anche nel gruppo Telegram dei partecipanti e vi isloco di domande sono io, sono io, sono io non ve lo dico tanto e quindi vi dico questa cosa è molto interessante ho visto proprio le persone ad esempio in certi momenti della giornata che erano lì che addirittura grazie all'informazione e alla trasformazione che ricevevano che si potevano mettere a pianificare delle azioni proprio da fare e questo è molto bello perché ovviamente si tratta di lavorare sul sottile e portare nella materia che poi è sempre quello che serve quello che arriva bene mi sono dilungata un po' troppo pensavo di fare un video molto più breve io spero che ti possa essere d'aiuto ti possa essere utile che ti sia arrivata l'energia anche di quello che di quello che ti ho letto e che ho provato a trasmetterti è semplicemente questo per dare le informazioni a chi ancora vuole saperne di più questo è quello su cui noi ci siamo basati finora poi ci sono altre informazioni ma come vedete le guide quando parlano per me è tutto chiaro però non è che dicano cose concrete tipo non so cambierà la tua vita relazionale o cose del genere ma le sensazioni ed è per questo che è così importante fare esperienza che arrivano quando arrivano queste informazioni sono molto chiare io ho capito perfettamente qual è il cammino e le cose che andremo a fare non a livello di esercizi ma quelli mi sono arrivati ma non è tanto quello che vi volevo dire è proprio l'intento l'intento profondo di questa esperienza è perché è così importante perché me l'hanno detto anche con piuttosto un largo anticipo perché comunque questa cosa si doveva assolutamente fare bene io spero che se eri tra le persone che avevano dei dubbi o che volevano saperne di più questo video ti sia stato d'aiuto sia stato chiarificatore ovviamente io ti dico non ti dico vieni assolutamente in questa situazione in questo in questa esperienza in questa esperienza io ti dico solo sempre ascolta il tuo cuore se senti la chiamata ma solo in quel caso lì contatta il tuo tutor ti metterò magari il link sotto questo video in modo che se tu senti la chiamata tu possa fare ancora l'incontro con il tuo tutor mi sa che abbiamo riempito la casa quindi se ci saranno altre persone dovremo cercare una nuova sistemazione e organizzare tutto il resto quindi vediamo se l'universo vorrà le cose si muoveranno nel modo corretto ti mando un abbraccio forte un abbraccio di luce e tanta tanta energia per il tuo cammino a presto